Massimo Trespidi promette di abbattersi come un ciclone sul PDL Piacentino. La nomina commissario provinciale, arrivata ieri da Angelino Alfano per sostituire Tommaso Foti, passato a Fratelli d'Italia, è ancora fresca, ma il presidente della provincia dimostra di avere già le idee molto chiare. Io ho in mente una vera e propria rivoluzione, un rinnovamento e un rilancio profondo del partito, negli uomini, nei metodi, nei modi, nell'approccio alla politica, un partito agile e dinamico che sappia rilanciare i propri legami e i propri rapporti con la società civile, con quelli che sono i mondi produttivi che da sempre hanno alimentato il sentimento di rappresentanza del popolo della libertà. Nei prossimi giorni convocherò tutti gli amministratori del popolo della libertà, perché è giunto anche il momento di fare scelte di campo, non si può tenere i piedi in due scarpe, bisogna che sia chiaramente identificato chi appartiene al popolo della libertà, quali sono i suoi amministratori, quali sono i suoi sindaci, i propri consiglieri comunali. Intendo istituire anche un coordinamento tra il consiglio provinciale, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, perché l'azione amministrativa sia coordinata, efficace ed incisiva. Tra gli azzurri che potrebbero rischiare provvedimenti c'è il consigliere regionale piacentino Andrea Pollastri. Il partito a Bologna sta analizzando le sue dichiarazioni a sostegno di Fratelli d'Italia alle recenti elezioni e non sono escluse sanzioni a suo carico. Il rapporto con i cugini resta comunque uno dei temi caldi sul tavolo del neocommissario. Fratelli d'Italia è alleato del popolo della libertà, sono due formazioni distinte che hanno intrapreso due percorsi diversi. Io credo che però la collaborazione tra il popolo della libertà e Fratelli d'Italia continuerà e continuerà proficuamente all'interno del centro-destra piacentino.